Una settimana di festival di musica e spettacolo e come ogni anno proporremo al nostro pubblico uno programma molto ricco e vario, infatti cerchiamo di accontentare ogni possibile gusto che dei nostri spettatori proponendo, ripeto, ogni sera spettacoli diversi. Inizieremo con il teatro di Aletale, una compagnia locale di lama agli istantii e tengo a sottolineare che questa serata l'incasso sarà devoluto in beneficenza per i terremotati dell'Abruzzo. Poi continueremo il programma con una serata tradizionalmente dedicata forse ai più giovani aprirà un gruppo, una band locale che propone cover rock che si chiamano Red Room e la seconda parte della serata sarà letata da un gruppo rivelazione della nostra zona i Tragic Sentimental Song che è un gruppo che è stato anche selezionato dal laboratorio di Zelig. Proseguiamo giovedì 23 luglio con la serata proprio dedicata al folklore tenendoci a quello che è il tema, il titolo del festival. Infatti avremo prima una pipe band e quindi l'esibizione di cornamuse scozzesi e concluderà la serata un gruppo che propone musica folk irlandese, sono i Dagda. Per l'occasione cercheremo di proporre anche agli stand menu piatti tipici e bevande tipiche scozzesi e irlandesi e diciamo anche tutto lo staff sarà rigorosamente vestito in kilte scozzesi. Venerdì 24 abbiamo la serata forse clou di tutto il festival infatti avremo ospite direttamente da Zelig e Colorado Caffè Giovanni Cacioppo che si esibirà nella piazza. La serata sarà aperta da un'altra band locale che sono i Ladrones. Sabato sera come da tradizione grande spettacolo in piazza con gli amici di Alternativa. Domenica la mattina ci sarà una manifestazione che si chiama Sportivamente organizzata insieme al Comune di San Giustino dedicata ai bambini quindi tutti i bambini potranno entrare nella piazza di lama e provare tutte le varie discipline sportive. Pomeriggio avremo le bande, siccome noi siamo una banda musicale come la tradizione la domenica ospitiamo bande con maggiorette quindi pomeriggio verso le ore 18 avremo una sfilata per le vie del paese della banda di lama con le maggiorette e della filarmonica di San Mignato di Pisa con la quale abbiamo fatto uno scambio e gemellaggio. Alle ore 20 e 30 si esibirà nella piazza un gruppo di maggiorette di Roma e poi alle ore 21 e 30 ci sarà il concerto di chiusura della soluzione filarmonica lama con le maggiorette. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.